Seguimos con il nostro balanzamento, perché? Perché ora stanno faltando solidi, ok? E per ultimo potere anticongelante. Solidi totali. Stanno faltando 64 grammi. A consiglio, in questo tipo di sorveggio, di collocare anche inulina. E uno, poco sorveggio che non screme, a consiglio di usare inulina. Perché? Perché inulina ajuda a mantenere la struttura, lembrando che l'alcol è un destabilizzatore, ossia, e li mesce con tutto, no? Mesce con proteine, mesce con gordura, mesce con varie cose. E mesce con la nostra struttura. Quindi, per assicurare un poco mai questa struttura, mi consiglio di usare, il mismo che è un creme, che normalmente si usa malto destino, in questo caso io consiglio di usare anche inulina. Quindi, voglio buscare la mia inulina, con i miei ingredienti. E in questo caso, visto che è inulina, diciamo, se è consigliato non passare i 50 grammi, quando mi faltano 64 grammi di solido, collocare anche un po' di malto destino. Malto destino, i 18, e collocare 50 grammi di inulina, i 14 grammi di malto destino. e anche la mia inulina, la mia inulina, la mia inulina, è un po' di malto destino. Grazie a tutti.